Un weekend in compagnia dei legumi in Piazza Dante a Napoli. Torna a Leguminosa un affascinante viaggio per scoprire l'universo dei legumi grazie alle esperienze sensoriali, alle storie, alle storie dei produttori della Campania, dell'Italia e del mondo. L'edizione 2018 di Leguminosa è patrocinata e sostenuta dalla Regione Campania, in collaborazione con Slow Beans, comunità leguminosa e con la partecipazione del pastificio di Martino. In occasione di Leguminosa a Napoli si è riunita la rete nazionale di Slow Beans, la comunità leguminosa che unisce i produttori dei legumi tutelati dalle associazioni di tutta Italia. A parlarci dell'iniziativa è Gaetano Pascale, presidente di Slow Food Italia. Sicuramente un evento che vuole mettere al centro i legumi ed è un'alimentazione sostenibile, sotto tanti punti di vista. I legumi possono costituire una frontiera importante oggi per l'alimentazione in Italia e in tutto il mondo. Un'alimentazione importante che può rendere più viva l'alimentazione in tutti i sensi. Tantissimi laboratori che hanno coinvolto tanti studenti, ma anche cittadini e turisti. Soddisfatto Filippo Diasco, dirigente della Regione Campania del reparto agricoltura. Abbiamo scelto questa manifestazione come contenitore ideale anche per promuovere e valorizzare le nostre eccellenze agroalimentari nell'ambito dell'anno italiano del cibo 2018. La stessa cosa faremo per quanto riguarda l'arte del pizzaiolo napoletano nell'ambito di tutto pizza che si sarà a maggio qui a Napoli. Quindi viva leguminosa assolutamente perché è una manifestazione di importanza non solo agricola ma anche economica e sociale.